Valar Morghulis qui è della cittadella e oggi parliamo di un'arma insidiosa e sofisticata, temuta anche dal più grande dei cavalieri, che spesso può essere ben più pericolosa di una spada. Ovviamente sto parlando del veleno. Veleno, Ned suggerì a bassa voce. Gli occhi assonnati di Pycelle si spalancarono di colpo. L'anziano maestro si spostò a disagio sulla sedia. Un pensiero inquietante. Non siamo nelle città libere, dove queste cose sono comuni. Gran maestro Ethelmure scrisse che tutti gli uomini portano nel cuore l'omicidio, ciò nonostante l'abbelenatore è al di sotto del disprezzo. Molti tipi di veleni sono diffusi nel mondo delle cronache del ghiaccio e del fuoco, dai sette regni dell'Ovest fino ai più misteriosi territori dell'Est, passando ovviamente dalle città libere, che sono famose per i loro veleni, specialmente l'Is. Ma ovviamente anche Westeros fa la sua parte in fatto di veleni. Ad esempio, i maestri li studiano alla cittadella di Vecchia Città, imparando le loro proprietà mortali prima di imparare a difendersi da esse nei loro studi delle arti di guarigione. Nei sette regni, però, i veleni non sono visti di buon occhio, come si può dedurre dalla citazione iniziale o da questa. Nessun vero uomo uccide col veleno. Al Motkailin i diavoli di Palude avevano scagliato freccia avvelenata ai suoi uomini, ma c'era da aspettarselo da quell'abbiette creature. Serri era un cavaliere, di nobile nascita. Il veleno era per codardi, donne e dorniani. I veleni, quindi, sono considerati un'arma vile e da codardi da qualsiasi lord, cavaliere e guerriero, ma probabilmente è perché questi grandi condottieri ne sono spaventati, visto che essendo abituati a risolvere le cose a suon di mazzate, non sanno come affrontare qualche goccia di veleno ben piazzata. Infatti il veleno è un'arma sofisticata che necessita più forbizia che forza bruta, ma nonostante questo è in grado di mettere in ginocchio ed uccidere anche il più grande e forte dei guerrieri, come dimostra la fine di Gregor Clegane prima dell'intervento di Qyburn. Quindi, in un certo senso, nonostante quel che se ne dica, il veleno è un'arma in qualche modo più onorevole di spada e lancia, perché è più democratica, potendo essere usata da tutti, uomini e donne, grandi guerrieri o piccoli servitori. Questo ovviamente non significa che anche i più abili guerrieri non possano usare il veleno. Ad esempio, Oberyn Martell avvelena le sue armi e per questo ha ottenuto il soprannome di Vipera Rossa di Dorn, e anche alcune delle sue pericolose figlie, dette Serpi delle Sabbie, fanno lo stesso, così come i Cranogmen che abbelinano le loro frezze per difendere le paludi dell'incollatura. Ma i veleni possono essere somministrati in molti altri modi, più comunemente nel cibo o le bevande delle vittime, e proprio a causa di questa minaccia molti nobili usano degli assaggiatori per assicurarsi che il cibo non sia avvelenato. Infatti è probabile che nella storia dei Sette Regni siano morti più lord a causa di una coppa di vino avvelenata piuttosto che di una spada, anche perché il veleno viene usato da numerosi ordini di assassini, tra cui gli Uomini Senza Volto. Ma adesso vediamo quali sono i principali veleni che conosciamo, la maggior parte dei quali ci viene presentata dal Gran Maestro Pycelle durante il processo di Tyrion per l'omicidio di Joffri. Sul tavolo erano collocate parecchie piccole ampolle. Pycelle fu lieto di identificarle l'una dopo l'altra. «Essenza grigia», disse con voce anch'essa tremante, estratta dal sangue di Rospo. «Ombra della sera, dolce sonno, danza del demone, questa è occhio cieco, sangue di vedova è chiamata quest'altra a causa del colore, una pozione crudele, sigilla la vescica e il retto di un uomo, facendo annegare il malcapitato nei suoi stessi escrementi. Questo è flagello di lupo, qui c'è il veleno di basilisco, e queste sono le lacrime di Lys. Sì, li riconosco tutti, il folletto Tyrion Lannister le ha rubate dalle mie stanze dopo avermi fatto ingiustamente imprigionare». Paisel lo apostrofò Tyrion, rischiando l'ira di suo padre. «Potrebbe uno di questi veleni causare la morte di qualcuno per soffocamento?» «No, per causare quel genere di morte è necessario un veleno più raro. Quando ancora ero un ragazzo, apprendista alla cittadella, i miei insegnanti lo chiamavano semplicemente lo strangolatore». Vediamo ora di aggiungere qualche parola in più su alcuni di questi veleni, a partire dal fatto che, come al solito, la traduzione italiana è piena di errori, visto che l'essenza grigia, in lingua originale detta Grey Cup, in realtà deriva da un fungo velenoso e non dal sangue di un rospo. È per questo motivo che di solito traduco personalmente le citazioni, come ho fatto con quelle precedenti, anche perché nella stessa frase c'è subito un altro errore ancora più grave, visto che tra i veleni viene citata l'ombra della sera. Ma in originale è Nightshade, cioè ombra della notte, un veleno derivante da una pianta, che è molto diverso da Shade of the Evening, che è appunto la vera ombra della sera, la quale non ha fatto un veleno, bensì la sostanza usata dagli eterni di carte, di cui abbiamo già parlato in altri video. Quindi, ancora una volta, vi consiglio vivamente di leggere in lingua originale, se ne avete la possibilità, perché è veramente difficile analizzare dei libri così complessi e dettagliati quando ogni due righe c'è un errore di traduzione che ne sconvolge il significato. Comunque, andando avanti con i veleni, abbiamo il sangue di Vedova, in originale Widow's Blood, che sembra avere il colore del sangue e, come spiegato da Pycelle, i suoi effetti non sono affatto simpatici. Passiamo poi al veleno di Basilisco, che deriva appunto dai basilischi, feroci retteli velenosi che si possono trovare nelle giungle di Yeti e a Sotorios, principalmente a punta del Basilisco, e un tempo erano numerosi anche sulle isole del Basilisco, come si può dedurre dal nome. È interessante notare che anche il sangue di Basilisco può essere considerato una sorta di veleno, usato anche dagli uomini senza volto, visto che a detta dell'orfana dà alla carne cotta un odore gustoso, ma se ingerito produce una violenta follia nelle bestie così come negli uomini. Un topo attaccherebbe un leone dopo un assaggio di sangue di Basilisco. Veniamo poi alle famose Lacrime di Lys, un raro veleno prodotto dagli alchimisti della città libera di Lys. Esso è molto costoso e ricercato, perché è trasparente in odore, in sapore e non lascia alcuna traccia. Quindi è perfetto per avvelenare le bevande delle vittime, le cui viscere vengono consumate dall'interno. Così, senza tracce evidenti, sembra che le vittime muoiano a causa di una qualche malattia in seguito a un semplice mal di stomaco. Questa, ad esempio, è la fine toccata al buon John Arryn, dopo che sua moglie Lysa l'ha avvelenato con le lacrime di Lys, su indicazione di dito corto. Dopodiché abbiamo lo strangolatore, un raro veleno fatto con delle piante che crescono solo su delle isole nel mare di Giada, e la sua preparazione è lunga e difficile e nota solo agli alchimisti di Lys, agli uomini senza volto di Braavos e ai maestri della cittadella. Il veleno si presenta in forma cristallizzata e di colore viola scuro, che corrisponde al colore della faccia dei malcapitati che dovessero bere del vino in cui è stato sciolto un cristallo di strangolatore. Infatti, come si deduce dal nome, esso fa contrarre i muscoli della gola delle vittime, impedendo la respirazione e causando una morte per soffocamento. Nella storia, tre persone che conosciamo bene vengono avvelenate con lo strangolatore. La prima è Melisandre, quando il maestro Cressen, dopo aver visto la sua cattiva influenza su Stannis, prova ad ucciderla offrendole una coppa di vino avvelenata. Ma sfortunatamente, il veleno non ha effetto su di lei, che beve mezza coppa senza problemi, porgendo il resto a Cressen, il quale invece muore soffocato a causa dello strangolatore. La terza persona è ovviamente Joffrey, che come ben sappiamo muore soffocato dello strangolatore durante il suo matrimonio. Un altro importante veleno che compare nella storia è il veleno di Manticora, che causa la morte delle vittime non appena il veleno raggiunge il cuore, ma può essere alterato in modo da rendere la morte lenta e dolorosa. Ed è proprio ciò che ha fatto Oberyn Martell, avvelenando la sua lancia con questo veleno di Manticora modificato, in modo da far soffrire il più possibile Gregor Clegane, e vendicare così la morte di sua sorella e dei suoi nipoti. Infine, ci sono veleni un po' più ambigui, generalmente usati come medicine, ma che possono essere considerati come veleni per via dei loro effetti. L'esempio principale è il dolce sonno, in originale Sweet Sleep, un medicinale dal profumo e dal gusto molto dolce, che in base alla dose somministrata ha diversi effetti che vanno dal tranquillante alla morte. Infatti, come si ricorda l'orfana, pochi grani rallentano un cuore palpitante e fermano il tremito di una mano, facendo sentire un uomo calmo e forte. Un pizzico garantisce una notte di sonno profondo e senza sogni. Tre pizzichi producono quel sonno che non ha fine. E attualmente il dolce sonno è usato su indicazione di Peter Baelish da maestro Coleman come medicinale per alleviare i tremori e convulsioni del giovane Robert Arryn, meglio noto come Sweet Robin. Ma nonostante Coleman si preoccupi degli effetti mortali che tale sostanza può avere sul piccolo Lord, dito corto continua a fargliela somministrare. Ma dei piani di Littlefinger nella valle di Arryn potremo parlare in futuri video. Per essere sicuri di non perderli iscrivetevi, mettete mi piace, commentate e condividete. Balardo Eris